Precari, storia di un'Italia che lavora, di che cosa parla questo libro? Ma questo libro è il tentativo di raccontare che cosa è successo in Parlamento in questi primi tre anni di legislatura sui temi del lavoro e della precarietà. Si pensa troppo spesso che questi anni siano stati solo anni di scandali, intercettazioni, leggi ad personam per il Presidente del Consiglio, in realtà in questi anni c'è stato un governo che forse più di altri governi precedenti ha proprio destrutturato il diritto del lavoro, creando a mio giudizio molte più disuguaglianze, creando a mio giudizio molte più situazioni di insicurezza per migliaia di giovani e di donne soprattutto. Quarantenni, ma anche più grandi, che pur di tenere un piede nel mercato del lavoro, pietiscono uno stage gratuito. C'è proprio una precarietà delle condizioni del lavoro che sta dilagando. Come si può intervenire? Qual è la proposta del PD? Di intervenire su tre aspetti, su tre grandi anomalie che abbiamo noi in Italia. La prima è una mancanza di uguaglianza, cioè uno strumento che nel momento in cui perdi il lavoro o non hai lavoro, qualunque tipo di lavoro sia, qualunque tipo di contratto tu abbia avuto, ti sostiene e non ti fa morire di fame. Le regole dovrebbero dare un incentivo diverso al datore di lavoro e dire la flessibilità te la lasciamo ma te la paghi di più, non di meno. Cercare di trovare risorse per la scuola, per l'università, per la ricerca, per l'ambiente, insomma per lo sviluppo di un paese che altrimenti non si sa dove e come si possa sviluppare.